Per quanto riguarda il Parlamento e il Governo, l'idea è esattamente quella opposta all'aumento dell'IVA, cioè l'aumento dell'IVA ricordiamo che scatterebbe dal 1 gennaio del 2018 perché sono delle clausole di garanzia per la tenuta del bilancio pubblico, ma l'intendimento da parte, ripeto, del Parlamento e del Governo è quello che questo aumento venga ancora una volta disinnescato e ovviamente bisogna trovare da qua a gennaio e quindi con la prossima legge di bilancio dell'autunno le risorse che permettano di far quadrare il bilancio pubblico lo stesso senza ricorrere all'aumento dell'IVA che darebbe sicuramente un danno a questa ripresa così difficile, danneggerebbe i consumi, danneggerebbe sicuramente gli esercenti commerciali e quindi è una politica che cerchiamo in tutti i modi di evitare con strumenti alternativi nel bilancio pubblico con la legge che faremo in autunno.